Che cosa è la legge Schlein? È una proposta di legge che abbiamo presentato in Parlamento per salvare la sanità pubblica dai tagli e dalla privatizzazione strisciante che sta portando avanti questa destra. Noi vogliamo più risorse per la sanità pubblica e un piano straordinario di assunzioni perché i reparti si stanno svuotando e le liste d'attesa in questo modo si allungano all'infinito. Questo fa sì che chi ha i soldi da solo riesce a saltare la lista d'attesa andando dal privato. Chi non ha questa possibilità sta rinunciando a curarsi. E noi vogliamo difendere il carattere universalistico di una sanità che è fatta per curare chi da solo non ce la fa. Così l'aveva immaginata una donna straordinaria come Tina Anselmi. Noi vogliamo più risorse e attenzione sulle persone anziane non autosufficienti, sulle persone con disabilità e poi molta più attenzione sulla salute mentale. Questo ce lo chiedono anche i giovani nelle scuole e nelle università.